la lana porta a casa la macchina però arriva in prima posizione su i motor su i croce picchi arte subito resi con la croce buono oh l'azio importante oh metto metto da buona morti morti ma che cazzo ma raga ma c'è raga jeppe mi ha tamponato che stava lagando io non volevo supervivenire oh la ferrari dai oh la cazzo oddio oh morti 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 enormi morti enormi nel buio metto occhio va dentro l'amg what a remote i teppi boh ha fatto una roba io non lo so chi è che è morto sul dritto occhio simo no dai oh che cazzo è questa ferra oh ecco io non t'ho visto non t'ho visto oh oh simo contatto 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 no perchè il gran quanto è nel buio prima mi ha detto un morto nel buio no l'uomo nero ero io mi spaventa giuseppe passiamo oh 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 oddio spavigliame oh 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 oddio no no che c'è fatto non è difficile chi è che urla chi è che urla è stata foda cosa successe è l'arca oddio oddio oh rovinemi è morto è morto è morto simo oddio voglio ragazzi calma oddio mi togliamo aglio spero no ma che so go ma che so Cemelle chi è calmo mike calmo c'è presidente giovinarsi c'è presidente giovinarsi c'è presidente giovinarsi allora devi stare calmo io vabbè non so una situazione che tu neanche puoi immaginare vedo fantasmi uomini neri dente che muore mace di tutto godiamo vai avanti Si è concentrato E' la quarta guerra mondiale qua Diego No calma calma No nel motame no Vienta Oddio Mic L'uomo nero Steff piantato Dentro in c'è Occhio occhio Non hai paura Dai Mic fighi tutto Oh Vieni Giuseppe dietro Sto male Sto male Mic 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 Non vedo niente sto piantendo Mic Spostati Spostati a sinistra Mic Ah Dai gratt Mic Bic Bic Mbic Oh Bic Muore big MC-Secondo 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 Oh, mica, sta buona step! Oh, BK, tour! 2 pinche, 1 fan, ma BK! BK, fucsia! No, non succede perché non deve succedere, però non deve succedere! Igor, Igor, no! Igor, Heater, è Igor, primo! Vai, Igor, vai, vola come un uccello! MC deve spingere! Un giro e mezzo alla fine, è successo di tutto! Vai, gol! Ig muore, curva Benny! MC secondo! Carota! Carota e Giuseppe! Ho fatto un botto incredibile! Mick! Mick! Mick, porta a casa la macchina! Ma vuoi mettere il suo passo su dove l'ho fatto? Mick, porta a casa la macchina! Igor, finalità! Oddio! Johnny! Johnny, devi aprire tutto, Johnny! Johnny, devi aprire tutto, Johnny! Igor, finalità! E se ne va! Oh ragazzi, mi avete fatto più anche, mi stavo sentendo male! Se ne va! Giuseppe e Carota sono morti nel dritto, mi hanno sfiorato e sono volato per aria! E Giuseppe è volato per aria! Lo è finito! Igor in crisi! Si guadagna... Due secondi! Oh, fa se... Giuseppe! Giuseppe, fammi chiedi! Vi parla un attimo quella cosa che ho fatto con Michael! Va volando! Vi parla un attimo quella cosa che ho fatto con Michael! Non lo parlo mai più! E a me si vede male, la fama perché ho il cavolo... Cioè, è proprio una mini nerd! Igor in crisi, viviamo! E si va a vincere l'ufficio su Igor! Incredibile! Da penultimo! E Cingolani! La gufa! A Ghost Lion! Prima fila caldissima! Antonio Lariete! Buono spunto! Rimane un po' pianta! Iceman! Oh, chi è questo bar? Madonna, ha sfiorato PK! Oh, no! Ma chi è che... Ragazzi le frecce però, porca di quella troia! James! James! Attenzione! James! Vai qua so! Oddio! Devo far passare i calloni ma è stato risucchiato! Vado! Vado! Vitto se sei rotto, togli davanti al cazzo! Per una Renault che mi ha platelmente buttato fuori! Gli scuri, ragazzi! Io ero sulla mia... Era la sua mia freddoria! Ero assolutamente in gara! Ero dietro PK e una Renault da sinistra si è spostato tutto sulla destra! Eh, ma io non mi sono... Eh, ma io le freccette non ce va niente anche adesso! Eh, occhio! Eh, se non... Poi comunque l'audio lo senti dal motore! Sto andando calmo di motore! Non lo onda addirittura! Non ho la modalità destinale! Comunque, salvo leader! Ikei! Enorme start! Le Carrots! Le MC! Le Jean penalità! Vitto! No! Francia! Troviamo tutti che è super penalizzante! Poi Antonio! Talloni! Stato letteralmente sbranato! Dalla first place! A taglio enorme lì davanti! PK già su salvo! Cruciato! Salvo da PK! Vitto! Vitto! Vieni, vieni Anto che ti faccio facciare! Vitto, resisti! Eh sì, Vitto può essere importante per Metano! Vediamo! Vitto copre! Tanto PK sta volando! E io ho sfiorato un pelino! Partito! Paletto! E' rientrato anche in traiettoria! Dikey a lunga salvo in crisi! Va sotto Carotz! Salvo a Parroco! di che ringrazia vedremo un po' dei video va ma mi stiamo dietro sperai che carota in difficoltà va dentro MC dentro calma calma con le parole siamo su multiplayer mutiamoci se in caso video 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 forse voleva farti passare forse voleva farti passare ecco eh guarda che voleva fatto guarda che James è una persona veramente onesta solo che credimi per noi che siamo abituati a giocare è facile per uno che non sa giocare ho scaricato oggi i giochi tanto è crollato vitto l'unica cosa che ti posso garantire mettere una mano sul fuoco sui palloni è proprio la sua integrità morale non la mi gioco la mia reputazione di giocatore lo so immagino la tua frustrazione davvero Antonio si gira meccatobbe per Antonio in aspetta dal nulla così salvo va veramente piano a un ritmo da GP2 ma dentro MC mi shake il mutamento grazie salvo risucchiato muti lauri muti lauri vitto vai 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 grazie vitto copri io vai eh vai giù ma da me la fa guarda chi guarda che guarda che ha salvato guarda che ha salvato guarda che ha salvato ma se mi hai spinto carota in penalità dai va bene si buono dai ma che culo carota in penalità buonissimo buonissimo questo è nato allora se io l'ho spinto vannaccia marono vannaccia va che è bloccato da da salvo l'onati vediamo abbiamo le minacce incredibile rischia il limone Antonio con queste minacce hai giotto con lì eh sì eh non mi regolamento non si può fare non si può richiedere una posizione no l'hai superato bello Antonio è già Antonio il muta Antonio il muta ma ma va a pk va a vincere una gara incredibile dominata da pk ed MC chiude secondo il rimasto totale tanneggiato alla prima curva vedremo dal video grande eccolo si salvo lonardi esordice in messico a te ne piace asciutto in città morti giova a me invece piace bagnata anto vai vai vediamo su i motor 4, 5 non ci sono sconti via via buono spunto di MC oh si è piantato qualcuno rischio di mega stamponamento mio dio non vedo un cazzo non ciutano attenzione ai botti oh molti tamponamenti contatti multipli vediamo vai Anto 1 e 3 1 e 3 vai vai no oh contatto MC Iceman si propone anche metto difficile eh ma mia mi sono rodo salvo in lotta con Vitto leader Antonio si propone MC su Iceman molto aggressivo Iceman questa sera nel mondiale anche adesso Sun My Side pesante Antonio cerca già di fare il vuoto molto aggressivo sul salvo di prendersi la prima posizione è un telefono che suona esce male Iceman va dentro MC trova la sciona Iceman resta lì difficile prende l'internet MC ancora mobile telefono molto disturbante Vitto sulla monetina zigzag di salvo quindi adesso si crea un trenino ciappe ciappe molto pericoloso no Vitto è in crisi rotto propone MC dentro oh oh che giallo Vitto esplode io voglio tre di voi il minimo Vitto esplode era anche danneggiato ha detto ero giallo mamma mia manovra molto rischiosa di Vitto allora l'ha danneggiato passo lento mamma mia come la stavo sminando dopo il video e gli muo di dopo vediamo un po' cosa valuterà Ulli Antonio è già alla prossima gara si va a limitare i danni vediamo se riesce a riprendere a salvo molta usura di Kers anche sotto il diluvio sembrano questo Vitto comunque non è morto buono buono cambio veloce siamo buono adesso c'è traffico salvo in crisi più la tantissimo salvo salvo sbrindella dentro MC da Leicester si bellissimo sorpasso qua inizio il penultimo giro Antonio in penalità incredibile Antonio in penalità attenzione colpo di scena è importante Uxame di MC di nuovo the first sector guadagna leggermente fuori perde fuori guadagna vediamo difficile anche con la penalità wow molto difficile grande passo di Antonio casa sua casa sua guadagna leggermente un po' di scena 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 uno ventinove e mezzo recupera otto decimi in questo giro gli serve un secondo difficile quattro secondi per Antonio quattro secondi per Antonio incredibile Uxame ancora di MC si propone su Antonio vediamo ma anche in gestione MC difficile allora deve guadagnare un secondo Antonio lo perde invece perde anche i tre decimi Antonio bis che la penalità è MC va a affrontare last corner al limite sulla monetina per il Fuxame finale si uno ventinove e quattro ed è win d'ufficio ed è win d'ufficio salvo botto nel finale clamoroso chiuderà settimo salvo win pesantissima di MC che allunga nel mondiale fumetano che chiude il medaglia di carta e vinto chiuderà sesto grandissima rimonta di MC dalla last line